benvenuti nel negozio gtb online oggi vedremo a proporre la croce di san benedetto disponibile nella versione argento e oro ogni articolo viene smaltato a mano dalla medaglietta potete vedere e i vari inserti dal cristo all'irri vengono tutti fatti artiginalmente sia avanti che retro è tutto made in italy viene progettato e realizzato tutto l'interna mentalità la ditta ogni confezione comprende di una scatola con preghiera delle tre lingue in italiano in spagnolo e in inglese da poco abbiamo introdotto anche altre colorazioni che andiamo a mostrare adesso tra poi quella rossa e il colore bianco a media interna viene sempre smaltata e anche nella versione blu diciamo questi sono colori un po più moderni un'altra versione è quella florescente o fosforescente ovvero che si carica di una luce di una fonte di luce e al buio si illumina buoni acquisti il nostro negozio vi faccio vedere un'altra videata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti